Ben trovati e benvenuti in questo nuovo video, per chi non mi conoscesse io sono Cristina Varone e come ogni volta esce il nuovissimo album in brochet mi trovate qui a parlarne insieme oggi vediamo il nuovissimo album dove ci sono tantissime offerte raga vi faccio risparmiare un sacchissimo se guardate tutto questo video perché appunto ci sono tantissime offerte oggi è il 22 ottobre grandissimo giorno, noi siamo ancora qui, io sono ancora incinta cioè la data presunta del parto era 21 ottobre quindi come il video precedente magari non so se arriveremo alla fine che magari così durante il video ho qualche contrazione e mi si rompo le acque, non credo comunque iniziamo, vediamo subito questo album quindi facciamo veloce veloce, vi faccio vedere come fare a risparmiare vi faccio vedere come fare appunto a fare l'ordine vi ricordo che qui sotto trovate il link diretto per fare l'ordine sul sito Ebrochet se volete usufruire anche dello sconto vi lascio anche lo sconto del 10% vi arriva direttamente il pacco a casa spedito, confezionato da Ebrochet France con un regalo speciale per voi e vi do la possibilità di fare sempre acquisti appunto sullo shop online dandovi sempre spediti trasporto gratuita il 10% di sconto e ogni tanto anche qualche regalino extra pensato apposta per voi quindi cliccate qui sotto il mio shop online, avete tutte queste cose in più qui sotto trovate anche il link di che cosa? dell'album che sfogliamo adesso eccoci qua con il nostro must have dedicato sugli occhi e potente contro il make up è il nostro bifasico waterproof con fiordeliso bio, va benissimo è super delicato, è un struccante appunto per occhi e bifasico quindi vuol dire che ha due fasi una parte più oleosa e una parte più acquosa per questo che vediamo due colori diversi non è la bottiglia colorata ma proprio il liquido all'interno e quindi va shakerato e poi utilizzato insomma è veramente veramente molto potente come struccante ma allo stesso tempo super delicato sono sicura che se l'avete provato non siete più tornati indietro perché non c'è un prodotto come questo è fantastico e appunto è talmente potente che toglie anche il make up waterproof ed è il più venduto in Italia quindi voglio dire se è il più venduto è perché è il più apprezzato e come funziona? funziona che appunto va shakerato va messo su un mischietto di cotone applicato sul make up lasciato riposato non va sfregato 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 e poi è rimosso basta veramente veramente un gesto e si rimuove tutto perché vi dico, poi vi spiego questo perché acquistando lo struccante rapido occhi avete uno sconto immediato di 5 euro su un trattamento viso quindi questo lo mettete nel carrello e aggiungete anche un trattamento viso abbiamo visto nell'album scorso che è uscita una nuova linea viso antietà Lift Procolagen e quindi se siete curiosi magari potete provare qualcosa della linea è una linea che sta andando alla grande avete visto sicuramente le pubblicità che ci sono state sia in televisione che in radio super pubblicizzata come linea perché è veramente potentissima ma abbiamo anche altri sconti che adesso piano piano vi faccio vedere perché sennò vi spoilerò tutto troppo subito all'inizio allora questi sono solo alcuni dei commenti che fanno del nostro punto struccante è veramente super amato il prezzo è di 6,95 euro e appunto si ha uno sconto immediato di 5 euro se si acquista anche un prodotto antietà possiamo appunto acquistare come dicevo qualcosa della linea Lift Procolagen che all'interno ha il retinolo guardate qui c'è il prima e il dopo è una cosa pazzesca e non sono foto così modificate è veramente pazzesco come prodotto è veramente fantastico quindi se volete usufruire appunto dello sconto secondo me 5 euro non butta via potete scegliere qualsiasi appunto di questi prodotti la crema giorno, la crema notte il contorno occhi antiborse e la crema giorno e notte insomma per ognuno di questi prodotti avete i 5 euro di sconto è una scelta oppure potete scegliere appunto se avete già magari un prodotto del cuore anti-age vale anche per quello quindi per un bifasico acquistato scegliete un anti-age che vi piace e avete lo sconto di 5 euro ok? tutto chiaro vale anche per la linea Exil Botanic e guardate qui guardate che figata questa linea della Sensitive Camel è una linea appunto che va benissimo per le pelli molto sensibili perché ha proprietà lenitive e vi assicuro io c'è stato un periodo soprattutto un periodo invernale dove avevo la pelle molto sensibile sulle guance e mi si arrossava facilmente passando da un locale caldo a freddo dopo veramente un paio di mattine che ho utilizzato la linea Sensitive Camel come appunto crema giorno veramente si è attenuato tantissimo questa sensibilità della pelle perché altro non era che appunto una eccessiva sensibilità è un prodotto fantastico se avete pelli sensibili è all'interno alla cavomilla bio se invece avete problemi di imperfezioni pelli miste e grasse ovviamente Salute Pur Vegetale abbiamo il siero crema giorno e contorno occhi poi abbiamo la crema eidra vegetale di cosa dobbiamo parlare questa crema è assolutamente una crema che è super trasversale è una crema idratante e l'abbiamo per pelli secche e per pelli normali quindi dipende appunto dalla vostra tipologia di pelle il siero idratazione è uno stop fantastico e come sapete io lo amolo adoro lo vero poi vediamo un po' ovviamente detersione non dobbiamo mai dimenticarcela di aggiungerla al carrello perché non possiamo pensare di parlare di crema se non andiamo a detergere il nostro viso prima ok quindi è veramente molto molto importante utilizzate tutti i detergenti giusti per voi? ok allora allora abbiamo 10 euro di sconto sulla base sul primer viso illuminante acquistando il fondotinta 10 euro di sconto quindi veramente un bello spunto ok quindi scegliamo il fondotinta che ci piace acquistando fondotinta abbiamo 10 euro di sconto sul primer ci sono diversi fondotinta che possiamo scegliere in base alla nostra tipologia di pelle voi sapete che tipologia di pelle avete vi lascio qua sotto un test assolutamente gratuito sul che potete fare per sapere la vostra tipologia di pelle così almeno andate a colpo sicuro sia per quanto riguarda le creme viso che per quanto riguarda anche il fondotinta e così ragazze andate a avere lo sconto di 10% io adoro il pleneclat proprio il mio fondotinta preferito mi piace troppo veramente veramente tanto ah sono sicura che ve lo state chiedendo la mia matita labbra è la iris cioè la 08 vorrei avere qui non ce l'ho più qui comunque la 08 e l'ho utilizzata e ho messo solo il balsamo labbra sopra la matita fantastico lo amo adoro mi piace un sacco poi vediamo un po' vabbè questa è la linea nuova essence botanique io sto adorando ma adorando ragazze adorando l'olio essenziale di limone veramente il profumo è fantastico ti dà quell'energia veramente meravigliosa poi acquistando la crema mani nutriente hai lo sconto immediato di 3 euro su una crema mani a scelta a pagina 49 quindi questa pagina noi siamo noi ok quindi abbiamo 3 euro di sconto perché non usufruire adesso può arrivare che l'inverno quindi prendiamo due creme mani 3 euro di sconto sulla crema mani la famiglia io la sappiamo l'amiamo abbiamo anche con l'acquisto del balsamo labbra sempre questo qui balsamo labbra nutri impolpante 5 euro di sconto su questi prodotti che cos'è crema mani anti età con fattori di protezione 20 oppure il latte corpo rigenerante nutrizione intensa ragazzi l'avete mai provata questa linea è veramente una super coccola dico super perché è proprio ti coccola proprio sia il profumo che la consistenza e non dovete pensare che dal momento che c'è scritto risce sia solamente per persone adulte o comunque sia molto ricca pesante non è così rimane sicuramente sta di rosa ragazzi se non vi piace la rosa il profumo di rosa non prendete questa crema questa linea perché sicuramente non la apprezzerete perché profuma di rosa all'interno l'olio di mille rose più 30 oli preziosi e questi 30 oli preziosi vanno proprio ad arricchire la nostra pelle a nutrirla proprio in modo intenso e appunto dicevo non dovete avere paura il fatto di mamma mia 30 oli ma chi li assorbe tutti questi 30 oli no ragazzi si assorbono veramente facilmente perché all'interno non ci sono siliconi quindi quando avete questa idea di patina che non si assorbe tu massaggi massaggi che non si assorbe è perché non è qualcosa di non naturale la nostra pelle riconosce diciamo gli elementi naturali e quindi assorbe tutto ciò che è naturale ok quindi ci sono 30 oli preziosi sì però neanche a dire le date assecchiate le mettete la giusta quantità sulle mani o sul corpo in base al prodotto che state utilizzando e si assorbe veramente facilmente idrata tantissima e è meraviglioso ragazzi veramente se non avete mai provato questi tre prodotti vi ristracconsiglio sia il bassamo labbra sia crema latte corpo che crema mani perché sono una super coccola adesso che sono anche in sconto aggiungete del carrello davvero 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 poi vediamo un po' che altra offerta ecco prezzo speciale 5,95 l'avete provate le eco ricariche eh l'avete provate mh brave e avete la possibilità appunto di scegliere tra queste fraganze disponibili e andare a ricaricare il flacone è bellissimo bellissimo questo flacone mi piace un sacco con la profumazione che preferite ok bene poi acquistando uno shampoo avete lo sconto immediato di 5 euro su un trattamento capelli quindi so che tutti usiamo uno shampoo e grosce perché se lo provi ti inamori e se non avete mai provato appunto un trattamento sfruttate assolutamente l'offerta se no sfruttatela comunque perché già usate i prodotti cioè lo shampoo secco deve essere sempre il nostro cassetto questo pure secondo me sia lo fortificante termoprotettore poi adesso che è inverno cioè deve esserci e lo avete scontato a 5 di 5 euro quindi a 7,95 euro protegge dal calore fino a 230 gradi cioè non so bruscolini in più vi consiglio che appunto di adesso che c'è il cambio appunto di stagione sicuramente cadono più capelli e insomma diventano più fragili andate con questo trattamento anti caduta che aiuta veramente a rendere i capelli molto molto più forti poi se avete invece bimbe con i con i nodi o come me sono più bimba ma comunque nodi questo latte di tastagna spray districante è super addolcente è uno spray che veramente fettina tutti i nodi ed è fantastico perché nutre in modo molto dolce e e lascia un profumo buonissimo buonissimo bene ragazzi con questo è tutto intanto qua siamo calate nelle tenebre non me ne ho accorta grazie per essere state con me se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace iscriviti al canale se ancora non sei iscritta mi farà davvero tanto piacere e ti aspetto su instagram mi trovi su cristina.verone e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao